Vi ho parlato di quello che abbiamo fatto durante la guerra e dopo e sto chiedendo a voi di fare ancora qualcosa per sostenere quella resistenza e per portare avanti quegli ideali che farebbero degli attuali governanti gente da mettere in un cantuccio e di non parlarne mai più, per carità di patria. Grazie.